Quale altra brutta notizia per i frontalieri? Ma è un rischio beffa. Su un sito online ticinese abbiamo visto la notizia che parrebbe, infatti la vogliamo verificare, che i 270 milioni di euro del fondo di disoccupazione dei lavoratori frontalieri, soldi dei frontalieri che devono essere utilizzati per pagare i frontalieri la disoccupazione, c'è la notizia che sembra che siano stati utilizzati o potrebbero essere utilizzati per pagare le pensioni di invalidità degli stranieri che non hanno neanche la carta di soggiorno di lunga durata. Sarebbe una vergogna ed è per questo motivo che abbiamo presentato proprio oggi un'interrogazione urgentissima al Ministro del Lavoro per capire se questa notizia è vera, ci auguriamo fortemente di no, altrimenti la reazione della Lega sarà durissima, e per capire se questi 270 milioni di euro che sono soldi dei lavoratori frontalieri che sono utilizzati proprio per alimentare il fondo di disoccupazione se questi soldi verranno impiegati in questo fine. Noi siamo sempre molto attenti sul tema dei frontalieri, prima il tema dell'incidenza del redditometro sui nostri lavoratori, vogliamo far capire a Roma che i lavoratori frontalieri sono una ricchezza, sono una risorsa e non sono lavoratori di serie B.